bentornate e bentornati a radio fbk e questo podcast fa parte della serie scienze e società se hai la curiosità a guidarvi allora mettetevi comodi perché siamo in buona compagnia anche oggi e siete nel posto giusto abbiamo con noi luisa ventivogli e marco guerini ricercatori fbk che ci daranno una mano per farci un'idea rispetto al grande tema delle discriminazioni e delle tecnologie per affrontarle non è un tema qualunque perché questo mese in europa viene dedicato al tema delle discriminazioni come contrastarle lo abbiamo visto nei giorni passati e anche nei gruppi di lavoro di luisa e di marco c'è un c'è un contributo importante in questa direzione per orientarci prima di raccontare perché e fino a che punto le tecnologie sono legate a doppio filo con le con le discriminazioni delle diversità diversità che possono essere di genere di etnia di religione di abilità vi propongo però di cominciare dall'inizio e quindi diciamo qual è il punto di partenza quali sono le definizioni che ci possono aiutare a disegnare la nostra mappa per partire ok e si esatto come dicevi tu è assolutamente fondamentale partire dall'inizio e bisogna iniziare con il capire che cos'è il bias esistono infatti tante diverse definizioni di bias per esempio sappiamo che nella statistica il bias è una semplice deviazione da un valore atteso quindi non ha nessun tipo di connotazione diverso per esempio ancora il significato che il bias assume nelle scienze cognitive perché nelle scienze cognitive per bias si intendono delle scorciatoie che la mente umana mette in atto per reagire velocemente quando non ci sono sufficienti informazioni poi invece c'è un senso più normativo più vicino al senso comune o anche al senso giuridico che è quello appunto di bias come giudizio giudizio basato su nozioni preconcette e quindi anche pregiudizio come opposto invece a una valutazione imparziale dei fatti ecco che allora questa nozione di bias ha un impatto quindi con l'etica con concetti di giustizia di equità e che e che quindi si rifanno un po' all'idea che tutte le persone o i gruppi etnografici e sociali devono essere trattati diciamo allo stesso modo in modo equo e quindi è assolutamente fondamentale capire cosa è il bias dare una definizione di bias e solo una volta che siamo riusciti a capire cosa intendiamo per bias ecco che allora diventa fondamentale valutare l'entità del bias e a quel punto si possono mettere in atto delle metodologie per cercare di mitigarlo di ridurlo e se possibile evitarlo del tutto insomma. Luisa se ci puoi aiutare con delle domande quali possono essere le domande che invece ci aiutano a definire quindi correttamente i bias e perché di volta in volta ci possiamo riferire a bias quindi diversi. Certo sì appunto c'è difficoltà nella comunità specialmente nella comunità scientifica a cui appartengo io nel definire in maniera univoca e chiara il bias infatti pensa che ci sono stati vari studi uno nel 2020 e uno addirittura recentissimo appena uscito i primi di maggio in cui la comunità scientifica ha analizzato tutta una serie di articoli scientifici che parlavano quello del 2000 l'articolo del 2020 del bias in generale nel settore dell'elaborazione del linguaggio naturale e quello del 22 specificamente per il gender bias e dall'analisi di queste centinaia di articoli si è visto che non c'era una definizione univoca di bias e anche le azioni che venivano intraprese quindi non seguivano le motivazioni e l'argomento della ricerca quindi le domande che bisogna farsi che sono fondamentali sono appunto quelle di capire quali sono i comportamenti dei sistemi che arrecano danni e a chi arrecano danni perché li arrecano in quale modo li arrecano quindi è necessaria una una comprensione precisa del dell'argomento e per fare questo è anche assolutamente importante non rimanere chiusi nella comunità appunto del scientifica del linguaggio naturale insomma dell'elaborazione del linguaggio delle tecnologie ma affidarsi anche a discipline esterne come la sociologia la sociolinguistica qui è molto importante un lavoro multidisciplinare appunto per capire a 360 gradi cosa sia e cosa si vuole fare per intervenire perché c'è di mezzo significante e significato per cui quindi bisogna cercare di capire di che natura è il bias che abbiamo di fronte per capire come si può fare a rimuoverlo in qualche maniera e ma i pregiudizi però possono essere anche positivi o sono soltanto negativi magari su questo marco allora innanzitutto andrebbe fatto di nuovo un passo indietro come aveva accennato luisa cioè il bias è fondamentalmente per come lo vedo pervasivo della nostra vita il bias inteso come pregiudizio dal punto di vista cognitivo è qualcosa che permea tutte le nostre esperienze noi viviamo di pregiudizi se io guardando fuori dalla finestra fuori nel corridoio vedo una luce arancio con del fumo e sento una sirena suonare io assumo che sia un incendio e scappo non vado a controllare se io camminando lungo un vicolo la sera vedo una persona con una maschera qualcosa in mano che sembra un coltello scappo non sto a controllare chi sia e magari scappo di verso una persona che sembra un poliziotto ma io non ho mai la certezza che queste persone queste esperienze che io corrispondano effettivamente ai miei schemi mentali perché noi viviamo in una perenne situazione di mancanza di informazione noi non abbiamo mai tutte informazioni necessarie per interpretare il mondo quindi il pregiudizio il bias inteso come pregiudizio è ciò che ci permette di muoverci in maniera efficace nel mondo altrimenti semplicemente non potremmo muoverci nel mondo allora detto questo in realtà c'è un ulteriore aspetto da considerare appunto che non è detto che tutti i bias siano negativi quando si viene a parlare di bias che so quelli classici a cui pensiamo religiosi di genere e via dicendo cioè mentre ci può essere il bias che noi ci lavoriamo tutti i giorni sopra tutti i musulmani sono terroristi a un bias di tipo religioso negativo ci possono essere bias anche di tipo positivo proprio per indicarne quanto sono permeabili quindi per esempio che so gli asiatici sono bravi in matematica è un bias a tutti gli effetti di tipo positivo ci sono anche asiatici che non sono bravi in matematica o che so gli etiopi sono dei gran corridori di fondo vero ma non tutti quindi in realtà il bias non è solo negativo ma può essere anche positivo e una per esempio delle questioni che all'interno della comunità scientifica ci stiamo ponendo è cosa fare di questi bias positivi i bias positivi solo per il fatto di essere positivi sono qualcosa da mantenere o anche quello possono avere anche quelli possono avere degli effetti negativi banalmente mi trovo di fronte a un asiatico mi aspetto che sia bravo in matematica magari non performa al top ma comunque molto bene e in qualche maniera siccome il mio bias è stato disatteso dico allora guarda proprio che persone incapace quindi anche un bias positivo in realtà può avere come posso dire effetti negativi nella vita delle persone quindi il problema centrale è quello sembra essere quello dell'interpretazione allora la percezione immacolata non esiste abbiamo 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 sentito i tuoi esempi marco e la domanda che ci andiamo a fare adesso invece è questa come si passa dalla dai pregiudizi che possono essere umani a quelli che si possono anche riverberare nelle macchine perché le macchine le programmiamo noi e su questo cosa succede beh appunto ci sono assolutamente delle delle somiglianze nel senso che come diceva marco appunto i bias fanno parte integrante del dell'essere umano no se vogliamo portare per esempio un altro un altro esempio preso dalla dalla letteratura è molto illuminante secondo me quello uno studio che è stato fatto sulla orchestra filarmonica di new york dove agli inizi degli anni 70 non era presente nessun componente femminile nell'orchestra poi a causa di una di una causa legale non legata a persone di colore comunque non ha non ai maschi e alle femmine è stata istituita la l'audizione alla cieca quindi i candidati dovevano suonare dietro un paravento e i giudici non li potevano vedere beh dal dagli inizi del 1970 quando è stata istituita questa nuova modalità di audizione è successo che improvvisamente il numero delle donne nel in questa orchestra è aumentato 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 tanto che adesso il 50 per cento dei componenti di quell'orchestra di new york è femmina quindi questo è un chiarissimo esempio di bias assolutamente involontario no perché i principi sono sempre stati quelli della meritocrazia ma evidentemente c'era qualcosa sotto che lavorava allo stesso modo anche le tecnologie l'intelligenza artificiale mostra mostra di avere dei bias uno dei primi esempi e dei più famosi per esempio era quello di una studentessa dell'MIT in America che si è trovata a studiare dei sistemi a lavorare con dei sistemi di riconoscimento facciale e non poteva lavorare perché semplicemente il sistema non la riconosceva mettendo una maschera bianca sopra ecco che il sistema la vedeva quindi questo ha dimostrato chiaramente che i sistemi di riconoscimento delle immagini non erano in grado di lavorare bene non solo sui neri ma addirittura ancor peggio sulle donne di colore quindi un altro esempio tristemente famoso era il sistema di google foto che andava ad etichettare le fotografie degli utenti e a un certo punto una ragazza aveva caricato una foto di lei con un suo amico erano due ragazzi di colore e il sistema di google li ha etichettati come gorilla quindi sono episodi gravissimi gravissimi sono solo alcune dei centinaia di esempi che si possono fare quindi è assolutamente comprovato che queste nuove tecnologie portano con sé un bias non indifferente e quindi dei danni non indifferenti appunto quindi come diceva giustamente luisa c'è un grosso problema con i sistemi ma in realtà ancor più che con i sistemi e gli algoritmi che ne stanno alla base c'è un problema di fondo con i dati perché questo perché nel nelle nostre attività ormai usiamo quotidianamente per esempio noi ci occupiamo di linguaggio i cosiddetti language model cosa sono i language model semplificando all'osso sono delle grandissime reti neurali a cui sono stati fatti leggere milioni di testi di modo che possano imparare il linguaggio e quindi quando ci sarà da insegnare a queste reti neurali un nuovo task tipo la sentimental analysis scoprire se una review di un hotel è positiva o negativa non ha bisogno questa rete neurale di imparare il linguaggio e poi di imparare il task ma il linguaggio lo sa già e si deve solo specializzare sul riconoscere se una review è positiva o negativa so far so good tutto molto bello il problema qual è il problema sta in questi milioni di testi che non gli abbiamo fatto leggere allora se noi a queste reti neurali facessimo leggere probabilmente solo che so pagine wikipedia potrebbe andare abbastanza bene ma siccome a queste reti neurali viene fatto leggere di tutto compresi libri ma anche materiale che viene dai social media queste reti neurali leggono fondamentalmente anche un sacco di pregiudizi sulle persone sulla religione su e su altre categorie specifiche ora questi language model come funzionano funzionano in maniera puramente probabilistica statistica cioè dato un contesto di tipo linguistico ti dicono qual è la parola successiva più probabile esattamente come farebbe un umano il gatto insegue il la parola più probabile è topo non scogliera allo stesso modo imparano tutti i tipi di distribuzione statistica nel linguaggio umano il problema qual è che molto probabilmente se noi gli chiederemo l'islam è una religione di ci dirà guerra non pace perché nei testi che ha letto probabilmente questa è la cosa che viene detta più spesso ok e quindi come posso dire tutti questi strumenti che noi usiamo purtroppo sono proprio impregnati di questi pregiudizi ed è difficile eliminarli stessa cosa succede anche nel mio ambito di ricerca infatti esattamente io mi occupo di traduzione automatica e quello che vado a studiare è invece il bias di genere appunto nella traduzione automatica e qui anche nei nostri sistemi come nei sistemi che di cui parlava Marco sono sistemi che imparano dai dati appunto e quindi riflettono quello che c'è nei dati e nella traduzione di traduzione automatica il problema è leggermente diverso no anche molto a che fare con le lingue perché per esempio se io parto da una lingua come l'inglese dove a parte i pronomi e poche altre parole tutte e la maggior parte delle parole sono neutre no per esempio I am a dancer e devo tradurre in una lingua dove invece la struttura linguistica vuole che ci sia un accordo di genere in varie parti del discorso quindi io sono un ballerino una ballerina è chiaro che ci troviamo di fronte a un problema di ambiguità e qui escono in traduzione di nuovo tutti i pregiudizi o comunque le associazioni di frequenza che sono state imparate nei dati infatti se voi andate su Google anche oggi e inserite in Google Translate I work with a good dancer riceverete come traduzione lavoro con un bravo ballerino se invece inserite I work with a bad dancer come traduzione troverete lavoro con una pessima ballerina quindi non solo tradotto al femminile ma bad tradotto con pessima quindi ancora peggiorativo quindi in realtà tutti questi dati che vengono usati dai sistemi di traduzione automatica hanno dei problemi che sono risultati chiarissimi ovvero sia traducono molto più spesso al maschile che al femminile e non fanno altro che rinforzare e portare avanti stereotipi quindi per esempio tutte le professioni di alto livello verranno tradotte al maschile le professioni di basso livello verranno tradotte al femminile e quindi appunto c'è un problema enorme che deve essere riconosciuto investigato e poi risolto in qualche maniera o comunque limitato tra parentesi se posso aggiungere una cosa ricollegandomi anche a quello che dicevo all'inizio sul fatto che questi bias questi pregiudizi sono come posso dire veramente pervasivi del anche del fenomeno linguistico mi viene in mente un esempio molto carino di un esperimento fatto da dei ricercatori che hanno dimostrato come questi language model di cui accennavo prima vanno a cogliere anche tra virgolette lo spirito dei tempi in che maniera avevano fatto hanno addestrato si dice così in termini tecnici due language model diversi a uno hanno fatto leggere tutta una serie di testi prima dell'elezione di trump e un altro tutta una serie di testi dopo l'elezione di trump ok quindi hanno fatto proprio una divisione di tipo temporale dei dati da leggere la cosa che è venuta fuori fondamentalmente è che se si chiedeva di generare frasi contenenti la parola donald che ha un nome comune prima dell'elezione di trump generava testi fondamentalmente positivi dopo fondamentalmente negativi quindi fondamentalmente aveva imparato lo spirito dei tempi in questo caso un bias verso la parola donald e qua di nuovo è un problema bello grosso perché qualsiasi persona che si chiama donald si troverebbe rappresentata all'interno di questi language model in maniera negativa senza aver fatto alcunché scusa marco ma allora se noi abbiamo questi queste reti neurali che imparano diciamo in maniera implacabile a partire dai dati che hanno siamo spacciati non ne possiamo uscire cioè come facciamo a girare questa questa sortilegio allora diciamo così che un filone molto importante nel nostro ambito di ricerca è appunto formato da gruppi che cercano di perdonatemi il termine bruttissimo debayassare il language model però secondo noi rischia di essere un come posso dire uno sforzo vano allora nel nostro gruppo di ricerca abbiamo provato a perseguire una via completamente diversa in particolare riferito ai discorsi d'odio cioè invece che eliminare i discorsi d'odio che comunque saranno sempre presenti all'interno dei language model noi tentiamo di insegnare a questi language model come rispondere in maniera adeguata ai discorsi d'odio tramite quelle che vengono definito contro narrative quindi noi non andiamo a negare per dire il bias o il pregiudizio ma insegniamo anche alla rete neurale come si risponde al bias o il pregiudizio e in realtà poi ci sono anche varie regole che noi seguiamo non è che si può rispondere in qualsiasi maniera di solito si cerca di rispondere con argomentazioni alle volte anche con l'ironia riusciamo a insegnarli un esempio che mi viene in mente è uno dei tanti pregiudizi che so contro gli ebrei è quello fondamentalmente le torri gemelle sono una false flag creata dagli israeliani perché soltanto gli ebrei possono essere così intelligenti da creare un piano così articolato e una delle risposte arzialmente ironiche o sarcastiche che si possono dare è guarda sono talmente intelligenti e talmente furbi che quando hanno tirato giù le torri gemelle c'erano dentro anche 300 israeliani proprio furbi no quindi questo è un modo se vuoi ironico per rispondere a un tipo di pregiudizio però mi sento di dover spezzare una lancia in favore dei dati nel senso che è assolutamente riconosciuto da tutti che i dati sono una delle fonti principali di bias però non dobbiamo dimenticarci che è stato anche visto che i sistemi quindi queste tecnologie e gli algoritmi non rispecchiano semplicemente il bias che c'è nei dati ma addirittura lo amplificano quindi da un lato certamente deve esserci uno sforzo di controllare i dati di documentarli possibilmente di migliorarli però deve non bisogna perdere anche l'attenzione sui modelli bisogna trovare quelle che sono le architetture le configurazioni e le modalità più adatte per far sì che i sistemi non siano bias appunto o perlomeno non amplifichi non bias già presente nei dati su questo mi trovi assolutamente d'accordo perché in effetti uno dei problemi fondamentali è se anche i dati sono problematici cosa facciamo ci mettiamo noi a fare da censori e togliamo dati che per noi sono problematici e quando ci fermiamo cioè vogliamo creare una sorta di neolingua in cui certi termini vengono totalmente tolti e dal nostro dal punto di vista del nostro attività delle contronarrative come posso creare un sistema che risponde all'odio che risponde al pregiudizio se in qualche maniera non insegno che cos'è l'odio e il pregiudizio cioè banalmente sarebbe giusto rimuovere i protocolli dei savi di Sion dai nostri training data come faccio poi a costruire delle argomentazioni che smontano quelle argomentazioni se prima non le ho viste quindi sicuramente è un tema ancora molto dibattuto non è che abbiamo una risposta definitiva ma stanno venendo provate varie metodologie proprio per cercare di mitigare questi problemi allora Luisa ricapitolando abbiamo visto che in italiano abbiamo un pregiudizio sulla parola pregiudizio se il bias è negativo allora è un pregiudizio poi dai pregiudizi si passa alla discriminazione ma ci sono delle sfide tecnologiche che voi state cominciando ad affrontare e ci sono anche delle questioni di cambiamento sociale più ampie quali sono le domande che restano aperte beh le domande che restano aperte sono tantissime ovviamente non solo perché la tecnologia rispetto a questo argomento è ancora ai suoi inizi ma soprattutto perché quando si parla appunto di etica di fairness di inclusività di discriminazione si apre un mondo di domande appunto anche solo rispetto al piccolo allo specifico della traduzione automatica e del bias di genere nella traduzione automatica come avete visto per esempio tutti gli esempi che ho fatto fino adesso rimanevano comunque chiusi nel binarismo maschile femminile allora una domanda che si sta aprendo tantissimo adesso per esempio è quella di andare verso il linguaggio inclusivo no quindi un linguaggio che non sia solo al maschile e al femminile ma che sia il più possibile neutro in modo da non fare distinzioni di genere quando non sono necessarie o rispetto alle persone che non sentono di appartenere strettamente a uno dei due generi nell'ambito del binario allora chiaramente qui per andare verso un linguaggio inclusivo ci sono delle problematiche linguistiche perché per esempio mentre ci sono lingue che reggono un linguaggio neutrale molto bene ci sono altre lingue come l'italiano che per reggere un linguaggio neutro richiedono che venga scardinata la struttura della lingua stessa quindi cambiamenti morfologici o sintattici e quindi si pongono subito dei problemi linguistici fino a che punto si può andare avanti nello scardinare una lingua ma non solo si pongono dei problemi etico culturali perché per esempio possiamo noi come creatori di tecnologia proporre la nostra visione o il nostro modello di linguaggio inclusivo di linguaggio neutro dove ci si può fermare fino a quanto si può essere prescrittivi anziché solo descrittivi quindi la domanda è assolutamente aperta e in generale dov'è che ci possiamo fermare nel proporre questi tipi di cose ci sono quindi domande importanti quando usare un linguaggio neutro diventa un'imposizione piuttosto che un suggerimento oppure ancora proporre un tipo di linguaggio diverso diventa una limitazione alla libertà di espressione o ancora più importante una possibile limitazione alla libertà di pensiero va da sé che noi come creatori di tecnologia a questa domanda non possiamo rispondere è necessario aprire a tutta la società a tutto il mondo della cultura e delle istituzioni e trovare una risposta insieme grazie luisa grazie marco e la sensazione che ho ascoltandoti dopo avervi visto confrontare in questi minuti è che siamo di fronte a una questione centrale del dello spirito del nostro tempo in cui il linguaggio i suoi effetti sul pensiero e poi sul cambiamento sociale li possiamo osservare anche attraverso la tecnologia e anche con l'aiuto della tecnologia non solo imparare a conviverci ma provare a disegnare delle delle direzioni che ci sembrano più amichevoli allora questa domanda non è rivolta naturalmente soltanto alla comunità scientifica ma soprattutto ai cittadini a chiunque ci sta ascoltando in questo momento e quindi vi invitiamo a non soltanto a continuare a seguire i nostri podcast ma anche a commentare e a mandarci le vostre osservazioni e farci sapere che cosa ne pensate di questo di questo confronto che abbiamo avuto oggi noi leggeremo con curiosità qualsiasi vostra vostro commento sperando che non siano né sessisti né né di odio né discorsi d'odio se possibile e vi risponderemo anche prima possibile arrivederci alla prossima grazie a tutti